Musica Ma è un cazzottino, è un cazzo biondo Buongiorno 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 Tutte quelle macchine ve le ha fornite all'istituto? No, solo questa Lamponi, frutti di bosco Lamponi, umore, mio figlio Torneremo quando sono maturi Prego Torneremo quando sono maturi Sì, il periodo Il periodo fine maggio inizio giugno Musica 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 Perché le voleva uccidere. Perché le galline andavano e lui le rincorreva, gli saltava d'osso e le ammassava. Alla ragione di tenerle insieme per un po'. In maniera tale che così si abituano alla nuova... al nuovo ambiente. E' la stessa cosa i polli, là dentro ci sono i polli. Come quelli di Mezzago, che vengono sottoterra, li raccolgono... sapete come funziona? Ah, quindi lo sai bene, no? No, bene, non oserei dire bene, però... Si, è un tipo di coltivare sottocumulo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!